L'obiettivo di questo micro video è quello di costruire in Blender qualcosa di simile a questo edificio medievale. Costruiremo soltanto la forma essenziale, quindi ignoreremo le porte, le finestre e tutto il resto e cerchiamo di fare soltanto la forma. La forma la faremo fondamentalmente partendo da un cubo parallelepipedo iniziale, poi lo estenderemo e poi lo estruderemo in modo tale da ottenere questa forma e poi ci appenderemo la parte finale e questo sarà l'esercizio, uno dei primi mini esercizi. Quindi andiamo in Blender, qui vedete che ho fatto una piccola prova, ripetiamo, Mettiamo Start Display dei tasti, TN e quindi qui partiamo dal nostro cubo, il cubo lo vediamo frontalmente con 1 quindi abbiamo X e Z, ci avviciniamo, andiamo con Z Z per vederlo in raggi X in sintesi, 5 per vederlo perfettamente orto dopodiché A per deselezionare tutto e a questo punto prendiamo con B, B di Bologna selezioniamo la parte di sopra, in edit modo magari, quindi facciamo Tab, A, B, parte di sopra estrude, estrude, parte subito nella direzione perpendicolare, quindi quella che ci piace quindi qui facciamo il primo pezzettino, che ricordiamo che è questo pezzettino ok, dopodiché estrudiamo di nuovo una seconda volta e andiamo a fare il tetto ok, e poi a questo punto facciamo S, X, quindi S, X e cerchiamo di far rimuotare che il tetto si restringa verso l'alto facciamolo eventualmente S in due modi, ok, perfetto così abbiamo, facciamo Z, abbiamo la prima parte della struttura ma abbiamo detto che questa parte qua deve estrudersi verso il fuori e quindi lo facciamo, quindi andiamo facce selezioniamo Shift, tasto destro, questa faccia poi facciamo estrude e estrudiamo leggermente il fuori, questa parte la stessa cosa possiamo farla anche per il retro se pensiamo che debba estrudersi anche per il retro quindi E, estrudiamo leggermente e abbiamo un'estrusione da una parte e dall'altra va bene, allora adesso quello che dobbiamo fare è sempre vedere di fronte questa cosa qua e vogliamo estruderlo in modo tale da prendere le parti quindi B, selezioniamo questa edit mode, prendiamo i vertici A, B selezioniamo questa parte di sinistra e la estrudiamo E a sinistra ok, vedete che non ha preso le parti che ci interessano quindi facciamo CTRL Z ok, e facciamo questo punto TAB e estrudiamo direttamente le facce SHIFT ok, e facciamo E delle facce e vedete che estrudiamo solo la struttura questa a questo punto andiamo pure in Z trasparente A prendiamo solo questo pezzo magari con i vertici A B così e abbassiamo leggermente questo in modo tale da ottenere l'inizio della nostra casa e questo in sintesi è la base poi aggiungiamo ancora una piccola un piccolo accorgimento ci mettiamo la base quindi selezioniamo SHIFT le due parti di sotto le estrudiamo e poi facciamo semplicemente S quindi rimpiccioliamo praticamente queste parti pochissimo perché vogliamo fare una piccola base a questo punto facciamo E e lo estrudiamo verso il basso per ottenere una sorta di zoccolo questo perché se notate qui sotto appare la casa appoggiata su una sorta di zoccolo quindi così abbiamo ottenuto la nostra casa e così è l'inizio della modellazione Grazie a tutti Grazie a tutti